Ciao a tutti ragazzi, continuo il nostro cammino in preparazione alla festa di Don Bosco. La rubrica che oggi iniziamo è la rubrica Don Bosco oggi, cioè come è vivo nelle persone che vivono il suo carisma, che lo seguono, che lo imitano anche in ambienti diversi dai nostri. Oggi abbiamo con noi un ospite che vi chiedo di accogliere, che si presenterà subito. Vediamo se lo riusciamo a fare entrare. Eccolo qua. Ciao Paolo, mi senti? Ti sento e tu mi senti? Alla grande, alla grande. Allora, non siamo soli, stiamo parlando di te, ma ci sono tutti i nostri ragazzi della Scuola Superiore di Bologna che sono qui con noi. Allora, prima di tutto come stai Paolo? Sto bene, sono appena rientrato da casa, un po' di neve qui al nord, ma ci siamo salvati. Per chi non lo sa, Paolo, non è proprio un volto sconosciuto di Bologna, ma Bologna ci ha fatto parecchi anni, giusto? Certo, sei anni e due stati al Bologna Don Bosco, ragazzi, tempi d'oro. Quindi, ma scusami, tu hai fatto il tirocino a Bologna, giusto Paolo? 97, 1997, 2003, ragazzi. 2003, perché voi non lo sapevano, sembra così uno che dici, ma cosa gli daresti? Ma è un signore ingegnere questo qui, ha fatto sei anni di ingegneria. L'amma mater studiorum checchinato, l'amma mater studiorum. Esatto, altro che la crocetta. Ascolta, ciao Paolo. Allora, Paolo, oggi siamo qua con i nostri ragazzi perché vorremmo un pochettino riflettere su Don Bosco oggi, cioè su come questa figura di Don Bosco non è semplicemente un'ispirazione nel passato, ma riguarda anche la vita contemporanea. Tu sei salesiano, sacerdote da tanti anni e per tanti anni hai lavorato come educatore. Adesso, dove fai salesiano adesso? Spiegacelo. Sono qui a Milano in pastorale giovanile e prima del Covid da una mano anche a Don Marco Re Calcanti e a Suor Emiliano che sono praticamente responsabili del carcere di San Vittore e seguono i carcerati e due ragazze che sono... Allora, ascoltami, Paolo, ti faccio proprio questa domanda, poi ti lascio la parola, che è questa. Prova a farci capire in che senso per te, in maniera plastica magari con un esempio, Don Bosco oggi è vivo, cioè non è semplicemente un reperto del passato. Una bella domanda. Allora, è un po' un aspetto un po' difficile da spiegare in pochi minuti, però l'anno scorso un'ex allieva di Sesto ha combinato la combinata grossa ed è finita in carcere. Io l'ho saputo perché mi sono accorto sui giornali che ha fatto questa stupidata e ho chiesto se potevo andarla a trovare. Allora, suore Emiliano, che sono molto amici, mi ha detto vieni quando vuoi perché tanto col tesserino puoi entrare. Allora sono andato lì al femminile a San Vittore. Lei non si aspettava perché era da anni che non ci vedevamo più dai tempi della prima superiore, della prima liceo. e quando sono arrivato sul secondo piano di San Vittore, la scena è stata abbastanza commovente perché è una tossica appesa alle inferiate del corridoio. La ragazza è stata chiamata e quando mi ha visto è praticamente scoppiata a piangere e mi ha abbracciato perché era da anni che non ci vedevamo. E la tossica che era lì ha detto ma chi è tuo padre? La suora no, no, è padre di tutti. Abbiamo fatto due chiacchiere poi nella cappellina lì del San Vittore perché il femminile ha una zona loro per andare a celebrare la messa e lei ricordava proprio la bellezza di quella scuola e dei racconti che facevamo su Don Bosco. Diceva sì, ho sbagliato tutto nella vita però anche in questa situazione credo che la figura di Don Bosco mi accompagna. Poi sono tornato per una messa dell'Epifania e mi sono fermato lì anche con le altre carcerate e una di queste diceva ma la tua allieva ci racconta di Don Bosco e compariva sul volto di queste ragazze c'erano entro nigeriane, ragazze dell'est e così via sono arrivate lì a Campanello abbiamo parlato un pochettino e vedevi insomma nascere un po' di speranza. La stessa cosa l'ho fatta con i protetti con un'altra messa celebrata qualche giorno dopo ho parlato di Don Bosco e anche chi non è venuto a messa è venuto fuori dalle celle ed era un po' incuriosito della vita di Don Bosco. Penso che, va bene, sì, sei dentro in una situazione particolare ma questa cosa commuove ancora i ragazzi e genera simpatia. Se ci pensi è anche come è nata l'esperienza di Don Bosco cioè forse i carcerati sentono una sintonia particolare con Don Bosco proprio perché sono i primi ragazzi per i quali si è speso e questo per me è interessante. Questo è molto bello perché Don Bosco diceva che ogni ragazzo era prezioso ai suoi occhi e agli occhi di Dio questo l'ho riportato proprio in quella messa mi ricordo come se fosse ieri Epifania del 2020 prima che succedesse tutto sto pandemonio e ho detto voi siete preziosi agli occhi di Dio che c'erano alcune ragazze con gli occhi lucidi cioè questa cosa ce la dobbiamo dire tante volte anche personalmente non solo di gruppo non una frase così formale ma dobbiamo crederci e dirlo ai ragazzi anche in questo momento. Bene dai Paolo siamo già agli sgoccioli se dovessi dire una parola sintetica un pensiero che lasci a tutti i nostri ragazzi in questo mese di Don Bosco io sto finendo di leggere un libro di Niccolò Govoni se fosse il tuo figlio segnalo alcune alcune frasi che veramente sono belle vi lascio questa poi se se promuovi un po' questa queste letture è interessantissimo ok ok Govoni che sta lavorando in un campo profughi in un'isola greca insieme ai minori così lascia scritte queste tre righe le leggo perché sono commoventi vivere significa raccogliere i cocci lasciati da qualcuno venuto prima di noi e cercare di fare un'opera d'arte l'ha fatto con cura l'ha fatto lentamente l'ha fatto con amore penso che Don Bosco abbia fatto cioè applicato un po' questo criterio che Govoni l'ha detto nel 2000 sottoscriverebbe Paolo grazie mille ti salutiamo da parte di tutti di tutta quanta la scuola ti aspettiamo il prima possibile ok 10 gennaio sono lì ok ciao 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 auguroni eh grazie a tutti grazie a tutti